Il progetto che abbiamo presentato e che abbiamo vinto con Corrush mirava a valutare l'efficacia del trattamento riabilitativo ambulatoriale intensivo e multidisciplinare in pazienti con malattia di Parkinson e vedere questo effetto sui biomarcatori molecolari tipici di questa malattia. I pazienti quindi sono stati arruolati in un RCT, quindi in uno studio randomizzato controllato per la presa in carico globale del paziente e gli effetti sono stati valutati sulle vescicole neurali biomolecolari. Il segreto di questo progetto è l'interazione sinergica tra la parte di ricerca e la parte di clinica in cui abbiamo lavorato insieme con un team multidisciplinare per presentare questo progetto a Roche per valorizzare il ruolo della riabilitazione nella gestione del paziente con malattia di Parkinson e riteniamo che sia un esempio fruttuoso di come ricerca e clinica possano lavorare insieme un po' in linea con quello che è il messaggio e la richiesta di Roche per cui ringraziamo per averci dato questa bellissima opportunità di poter portare avanti questo progetto.